Tengo a precisare che oggi sono qui a nome dei biologi siciliani della provincia di Palermo ma anche di altre province che sono fuori dal rinnovo proprio perché vogliamo eliminare ogni polemica e anzi vogliamo elogiare il lavoro che è stato fatto sicuramente dai direttori generali che si sono impegnati per non arrivare a questo punto. La colpa non è certamente dei direttori come purtroppo qualcuno vuol far pensare. La responsabilità certamente è invece collettiva ed è qualcosa che oggi si può ancora risolvere. Io sono convinto che probabilmente è sfuggita alla politica la necessità di rinnovare questo personale sanitario. Ecco perché oggi voglio veramente appellarmi alla sensibilità del nostro Presidente della Regione ma anche di tutto il Parlamento siciliano, dell'assessore alla salute perché possano loro stessi trovare una soluzione urgente, immediata affinché il lavoro fatto da questo personale non venga dimenticato e soprattutto non si fermi. Parliamo di persone che hanno lavorato in condizioni particolari che hanno speso il loro tempo, certamente retribuito, ma hanno lavorato anche 200 ore in un mese e allora la politica non può dimenticarsi di questo, non deve farlo e l'appello che noi lanciamo davanti a queste telecamere e dinanzi al popolo siciliano che ci guarda è quello di lavorare perché con immediatezza già da lunedì questo personale possa ritornare al lavoro. Il Covid-19 non è finito, certamente non possiamo buttare via l'esperienza, l'impegno che questo personale e tutte le strutture commissariali hanno speso in questo periodo.